In notti sotto le stelle ritorna la cena bianca, un luogo come quello di Piazza Grande ma anche l'attenzione verso i ristoratori e i ristoratori l'attenzione verso la città. Sì, questa è la quinta edizione di questa cena in bianco in questa stupenda cornice che è proprio Piazza Grande. Siamo d'estate, i ristoratori in questa piazza sono comunque una ristorazione comunque d'eccellenza e diciamo che il vestirsi in bianco è anche un po' un gioco. Ed è un evento perché poi diventa anche un'esperienza perché c'è la cena in bianco, viene montata per tre giorni la piazza, ci viene messo un bellissimo quadrato di prato verde vero che è molto bello, piace molto a tantissimi bambini, alle famiglie. Ricordiamoci Piazza Vasari, quest'anno è l'anno del Vasari, 450 anni dalla morte del Vasari e quindi è un evento, una cena speciale perché in una location che rappresenta anche l'anno vasariano quindi per quanto l'amministrazione si è impegnata quest'anno per ricordare Arezzo, per quello che Vasari ha fatto su Arezzo soprattutto e quindi un evento che gli aretini oramai hanno messo nel loro calendario. Un appuntamento che è per giovedì 18 luglio, una cena bianca con i ristoratori della piazza, Logge Vasari, Lancia d'Oro, Essenza e Osteria Grande. Un'iniziativa che rientra nel progetto Vetrina Toscana a tavola 2024 e con la Camera di Commercio di Arezzo e Siena. La cena bianca, oltre ad avere il patrocinio del Comune di Arezzo, ha anche quello della Fraternita dei Laici. Tra l'altro in occasione della cena bianca il portone di Palazzo di Fraternita sarà aperto almeno fino alle ore 23. E anche il contributo di GP Motors Arezzo e di Banca Popolare di Cortona. Questa è una iniziativa di comunità e la nostra è una banca di comunità per cui l'unione di questi due intenti era molto facile.